28 ottobre, sabato, alle 16 e 25. Siamo nei nostri studi con Peppe, fatti vedere anche tu, Peppe, fatti vedere. Stiamo registrando le voci di Rosy e voglio dire, adesso stiamo mettendo l'ero su bianco. Rosy ha fatto già il primo pezzo, adesso stiamo colando il secondo, speriamo tutto bene. E niente, salve a tutti, siamo qui nello studio, 28 ottobre, stiamo mettendo la voce sulle basi fatte da Centino e speriamo bene che vada tutto per il meglio. Ciao ragazzi!